No, ma io al di là della categoria faccio quello che mi chiede il mister con impegno e sacrificio e sinceramente la squadra veramente sta rispondendo ottimamente e in qualunque campo andiamo comunque diciamo la nostra e proponiamo il nostro gioco. Oggi hai fatto, possiamo dire, letteralmente impazzire i difensori dello Spezia sulla fascia destra ma soprattutto abbiamo apprezzato, non è una novità, anche la tua grinta andare spesso a commettere fallo, andare a contrastare l'avversario hai preso anche il cartellino giallo, questi sono giocatori che servono in questo momento al Pescara di grande sacrificio. Sì, il giallo si poteva evitare sinceramente perché diciamo che ho fatto un brutto fallo lì però sacrificio ce l'avrò sempre, è una mia dote e alla squadra certamente voglio aiutarla. Il secondo e il terzo gol del Pescara Manuel, in entrambi due giocate importanti nella prima hai chiamato palla da Brugman, hai tagliato tutta la difesa del Cesena hai servito largo Monachello che ha realizzato, nel secondo invece hai chiamato la profondità servito ancora una volta Monachello, questa volta il rimorchio, praticamente perfetto. Sì, diciamo che la prima è stata una bella azione, è stato Ugo Campagnaro a trovarmi in mezzo alle linee, abbiamo fatto una bella azione, si poteva concludere anche un po' prima però Gaetano è stato bravissimo e sul secondo è stato altrettanto bravo Gaetano perché io l'ho visto palla dietro subito, l'ha presa benissimo e bisogna fare i complimenti a lui. Vabbè, soprattutto a lui perché giustamente ha finalizzato una bella azione. Otto giornate, cinque vittorie e tre pareggi, Pescara imbattuto, Pescara che vince anche la prima gara in trasferta, quanto è giusto sognare? Tifosi sognano con questo primo posto, voi restate con i piedi per terra perché l'umiltà è la vera arma in più di questa squadra. No, ma noi andiamo avanti per la nostra strada, cerchiamo di fare sempre delle belle partite e come ho detto prima proponiamo il nostro gioco sia in casa che fuori, sinceramente potevamo avere anche due punti in più che sono i due punti di Padova, quindi la prima vittoria esterna poteva arrivare lì, è arrivata oggi. Forse è servita però la lezione di Padova probabilmente. Oggi siamo stati secondo me veramente perfetti perché nei loro dieci minuti dove hanno fatto il forcing abbiamo trovato il gol che ha spezzato le gambe. Ti chiedo un'ultima cosa Manuel, un'azione che secondo me è l'emblema proprio rispecchia la tua prestazione. Palla persa del Pescara all'altezza della trequarti, si è andato a recuperarla sulla linea di fondo, hai fatto il terzino aggiunto in scivolata e si è addirittura ripartito a fine gara. Sì, vabbè, lì è stato un mio errore in appoggio quindi diciamo che dovevo rimediare al mio errore. C'è del grosso dietro le trecamere, il rumoreggio. Grande Cristiano, sì, sì. Parliamo un attimo anche del prossimo turno perché da domani inizierete a pensare a questa gara con il Cittadella, tornerete a giocare in casa. L'augurio, l'auspicio è di vedere più tifosi, più pubblico allo Stato Adriatico. Questa squadra sta avendo il merito di riportare pian piano la gente allo Stato Adriatico. Certo, noi diamo tutto in tutte le partite, speriamo che venga più gente possibile perché ci danno una grossa mano.